Salve, sono Franco Natali, responsabile commerciale della MLive. Sono qua grazie a Città della Musica che mi ha dato il permesso di stare con loro e presenterei della nostra azienda due prodotti che abbiamo lanciato adesso. Il primo è V-Beat, prodotto pensato e studiato prevalentemente per i gruppi che serve per mandare avanti le basi musicali. In questo caso il prodotto ha fino a 16 file audio, fino a 16 tracce ed ha 6 uscite audio che si possono vedere sul retro del prodotto. Contemporaneamente ha la possibilità di avere un video out in uscita, sincronizzato con l'audio, ha la possibilità di controllare sia gli accordi che i testi su iPad esterni, quindi collegati in wifi in una linea chiusa, ha le librerie, i playlist e ha una cosa nuova che sono gli show che permette di andare online con basi musicali, solo click, basi musicali e video, solo video, quindi una serie di funzioni molto più complesse di una playlist normale. L'altro prodotto di cui parliamo è il Merish 5 che è in versione base o plus. La base ha 128 GB e il plus ne ha 512 GB. Questo è un oggetto plug and play all in one, ossia uno riesce tranquillamente ad andare a fare il suo spettacolo con le basi musicali registrate con un unico oggetto che è questo, quindi ha i due microfoni, l'ingresso, i due line in e la possibilità di cantare e suonare direttamente dal vivo con un unico oggetto. Quindi tutti e due i nostri prodotti noi siamo specializzati in backtracks, in basi musicali, quindi servono per utilizzare le basi. Vi ringrazio molto per l'ascolto e siamo a vostra esposizione a Città della Musica.